Ciao, sono Attilio Cordalo di lavolersilavorando.com e in questo video voglio parlarti di alcuni errori che gli studenti universitari commettono quando si tratta di esami universitari, cioè quando si preparano degli esami universitari, si preparano ad affrontare degli esami universitari e quindi te ne voglio parlare in questo video proprio per evitare che tu li possa commettere da quando finisci di vedere questo video in futuro. Andiamo subito nel concreto, allora ti ho messo qui sotto una carrellata, la vediamoli diciamo piano piano, sono cinque errori in particolare, partiamo dal primo. Il primo errore che molti studenti universitari fanno, anzi faccio una cosa, ti metto dei... Ok. Il primo errore che gli studenti universitari commettono è il fatto di non pianificare gli esami. Cioè cosa fanno? Moltissimi di loro. Vogliono dare un esame e partono dal fatto che loro vorrebbero magari preparare cinque materie. E quindi cosa fanno? Cercano di fare il massimo, chiaramente cercano di riuscire a studiare il più possibile, però poi si rendono conto che in realtà non ce la fanno, perché il tempo è poco, perché c'è sempre l'imprevisto che manda all'aria tutto, perché poi capita che magari al materiale che stavano studiando se ne aggiunge altro, che non avevano previsto prima, quindi chiaramente i tempi si allungano. I tempi si allungano, le materie sono troppe e quindi gli studenti cosa fanno? Iniziano a rinunciare a dare esami. Rinunciare a dare esami, rinuncia ad uno, rinuncia a due, rinuncia a tre, in sostanza ripartite da cinque e poi ne finisci per dare due, di cui magari uno anche con un voto basso. Ora, perché questo succede? Perché in realtà gli studenti universitari non pianificano gli esami, cioè loro dicono io vorrei dare un tot esami, x esami, vorrei dare questi esami ma a questa volontà deve eseguire in effetti un piano. Cioè se io devo dare cinque esami, quante pagine al giorno devo studiare per ogni esame e quando devo darli, in quali appelli, quanto tempo ho per prepararli e quanto tempo mi rimane tra un appello e un altro, quali materie mi conviene dare prima quando magari la sessione non è ancora iniziale e sono ancora più fresco io mentalmente rispetto magari al terzo appello della sessione che sono più stanco e quindi sono tutti ragionamenti da fare questi. molti studenti universitari, il 99% degli studenti universitari che, guarda caso, non raggiunge i risultati che vuole, non pianifica gli esami, cioè non fa un ragionamento legato a ho questo tempo, devo farmelo bastare o quantomeno devo capire se dare cinque esami, sei esami, quattro esami, tre esami ha senso oppure no. Secondo errore, te li lascio vedere tutti, vabbè non volevo farteli vedere però vabbè, te sto spiegando. Non presentarsi agli esami. Molti studenti universitari pur avendo una giusta preparazione, quindi una preparazione corretta per l'esame, non si presentano perché hanno paura, perché sono intimati appunto dalla commissione, perché non si sentono abbastanza preparati, sono insicuri, perché magari hanno dovuto fare proprio le cose di fretta e quindi sentono che avrebbero dovuto avere bisogno di un po' più di tempo per riuscire a prepararsi dal manico ma non ce l'hanno fatta, sentono che magari è successo qualcosa che li ha sconvolti, per esempio casi gravi, un brutto familiare, qualche situazione grave o ancora magari una situazione sentimentale propria, non so se ti lasciate da ragazzo, dalla ragazza, dalla ragazza, insomma tutta una serie di situazioni che hanno compromesso la loro preparazione e quindi loro non si presentano all'esame. Ora, voglio farti un ragionamento molto semplice qui, non voglio giudicarti, chiaramente non è che ti conosco, tu non conosci sicuramente me, però il concetto di BAS è questo qui. Ora, se tu non ti presenti all'esame, stai rinunciando a dare l'esame in quella pello lì e probabilmente non ne darai nessun altro in quella pello lì, perché se si tratta di un evento, se si tratta di un qualcosa che ha scosso tutta la tua preparazione degli esami, quell'appello è inutilizzato. Ora, detto che quell'appello è inutilizzato, quindi non preparerai nessun'altra materia, che cos'hai da perdere? Non hai nulla da perdere. E allora a questo punto perché non presentarsi? Cioè, detto che comunque non hai nulla da perdere e comunque non prepararesti nessun'altra materia, a questo punto tenta. Magari preparato per quanto sei, la commissione ti fa delle domande che conosci, magari prendi il 25 e quel 25 probabilmente può essere la chiave di volta per dare un senso a quel periodo del cavolo che stai passando. Quindi prendi quel 25 e te lo metti in saccoccia e dici, cavoli, finalmente la ruota inizia a girare e inizia un periodo positivo perché chiaramente da lì poi tu ti senti più motivato, ti senti pronto per affrontare altri esami e dai una carica di motivazione non indifferente a te stesso. Quindi devi iniziare a presentarti agli esami anche quando hai timore di presentarti, proprio perché non hai nulla da perdere. Errore numero 3. Studiare sempre del libro. Ora, gli studenti cosa fanno? Credono che in realtà il libro sia la fonte più autorevole da cui possono studiare. Ma la fonte più autorevole per riuscire a dare esami è in realtà la fonte su cui si passa il professore all'esame. Se il professore si basa sul libro e quindi il libro, in quel caso è il libro e quindi è giusto che tu studi dal libro perché studiando dal libro riuscirai a prepararti al meglio e quindi riuscirai a superare l'esame col voto più alto possibile. Ma se tu in realtà, se il professore in realtà si basa sugli appunti, studiare dal libro ti compromette perché ti fa perdere tempo e non ti permette di avere quelle nozioni, quelle informazioni che spesso il professore distribuisce e divulga a lezione e che pretende di sapere all'esame. Studiare sempre dal libro in quest'ottica è chiaramente un errore. Quarto errore. Non avere nessuna strategia per ringraziarsi la commissione prima dell'esame. Non sto parlando di mazzette, non sto parlando di niente di illegale. Devi sapere che quando tu vai all'esame, quali membri conosci della commissione? Il professore, se hai seguito qualche lezione o sei andato a qualche ricevimento e qualche altro componente, magari lo hai visto, l'hai intravisto in qualche altro ricevimento, ci hai avuto a che fare per qualche altra situazione, magari qualche approfondimento o seminario che ha tenuto, ma probabilmente non conoscerai il 90% della commissione. Ora, in questi casi è bene che tu metti in campo tutta una serie di strategie per ringraziarti della commissione prima dell'esame. Che significa ingraziarti? Significa che tu devi sapere che la commissione ha nei tuoi confronti zero consapevolezza, cioè probabilmente non sa chi sei, almeno per quanto riguarda chiaramente i componenti che non conosci. Non ti sanno giudicare, cioè non sanno se sei uno studente positivo, cioè uno studente buono, uno studente bravo, oppure uno studente cattivo, cioè nel senso che è un pessimo studente universitario. Quindi per loro l'autorevolezza, l'importanza, la reputazione che tu hai nei loro confronti è pari a zero. Tu devi fare in modo, prima ancora di sederti all'esame, di aumentare la reputazione che hai nei loro confronti. Come puoi aumentare la tua reputazione nei confronti della commissione? Ci sono tante strategie. La prima è quella di andare spesso a ricevimenti anche degli assistenti. Quindi riuscire a creare con loro una relazione prima ancora di sederti all'esame e fargli capire quanto tu in realtà ti stai impegnando per superare la materia. Quindi non solo ricevimenti del professore, ma anche ricevimenti degli assistenti. Secondo, un'altra strategia è quella di capire qual è l'ambito di riferimento, la specializzazione che ha un assistente e prepararti bene con l'argomento lì. Perché spesso gli assistenti alla cattedra hanno un argomento di specializzazione, cioè hanno, si specializzano in un settore, in un ambito specifico della materia che rappresentano. Quindi se tu ti prepari a dare anatomia, diritto commerciale, diritto penale, analisi 1, ci sono degli argomenti su cui gli assistenti, perché sono vincitori di borsi di studio, quindi loro sono specializzati in un ambito, in una specializzazione, in un argomento specifico che è bene che tu ti prepari, perché se loro ti dovessero interrogare probabilmente vanno a finire lì, perché il loro ambito di specializzazione, un po' come quando esci con gli amici, c'è il nerd specializzato, c'è che conosce tutti i videogiochi, l'argomento vuoi non vuoi ricade sempre lì, perché c'è un bisogno primario dell'uomo quello di sentirsi appagato per quello che sa. E quindi se tu diciamo ti prepari proprio su quell'argomento lì, fai una bella figura e chiaramente il tuo voto verrà influenzato in positivo. Quinto errore che gli studenti universitari commettono è quello di eliminare la possibilità di studiare dagli appunti perché questo significa che vuoi fare poco, vuoi rubare il voto all'esame. C'è questa malsana abitudine degli studenti universitari, cioè quella di non prendere in considerazione il fatto che gli appunti possono al contrario essere una fonte fondamentale di sapere. Cioè loro pensano che in realtà l'esame debba essere... all'esame devo sapere il più possibile e l'unica fonte possibile è il libro. Mentre se studiare gli appunti rubo l'esame perché il professore mi fa quelle domande che mi fa quelle domande basate sugli appunti e quindi io che ho studiato una dispensina di cento pagine rispetto ad un libro di mille sono più ignorante e ho rubato l'esame. Ma non è questo. Qui c'è un problema. Si deve capire bene che cosa è l'esame. L'esame non è io dimostro quanto so. Non è assolutamente questo perché tu puoi studiare, puoi approfondire al di fuori dell'esame, prima dell'esame e dopo l'esame e nella tua vita. Quindi l'esame non va a misurare quanto ne sai della materia. L'esame misura quanto tu dai una risposta che al professore piace. Quindi quanto più tu dai una risposta al professore che al professore piace, quanto più lui ti darà un voto più alto. Questo principio si chiama Perfect Match. Corrispondenza perfetta. Lo spieghiamo all'interno del libro come laurearsi velocemente e con voti alti. Se vuoi puoi acquistarlo su Amazon. È una recensione 5 stelle ovunque. Ora il concetto qual è che se tu dai... il professore quando ti fa una domanda ha in testa un modello di risposta ben preciso. Cioè ha in testa una risposta che è quella che lui vorrebbe sentirsi dire da te e probabilmente è quella che lui darebbe se venisse interrogato al posto tuo. Quindi ha un modello di risposta ben preciso in testa. Ora il tuo compito da studente universitario è quello di rispondere a lui dandogli una risposta che si avvicina quanto più possibile a questo modello. Chiaramente questo può significare anche che quella risposta è tratta dagli appunti e non dal libro. E va bene uguale perché il tuo compito, ti ripeto, all'esame è quello di creare questa corrispondenza tra ciò che tu risponderai al professore, dirai al professore è ciò che lui vuole sentirsi dire. Non sapere più della materia perché magari tu puoi conoscere anche il libro ma se il libro non viene chiesto all'esame è inutile. Questo per chiudere. Ora se sei arrivato fino a questo punto del video voglio condividere con te una cosa fondamentale. Io e Nicola, l'altro ragazzo con la giacca rossa che fa video insieme a me, siamo i creatori di Laurearsi Lavorando che è un programma online che è pensato per superare tanti esami con voti alti anche se attualmente studi e lavori. Qui sotto al video trovi tutti i link utili per poter approfondire. Che cosa è un programma online? È un insieme di video lezioni, così come questo video che stai vedendo ma fatte proprio in modo molto più specifico su singoli argomenti, che tu compri una volta e puoi vedere tutte le volte che vuoi. Quindi se tu sei interessato, vuoi proseguire, vuoi dare tanti esami con voti alti e studi e lavori. Mi raccomando clicca sotto al video, ci sono dei link utili per poter accedere al programma. Io per oggi ti saluto e ti auguro una buona giornata. Ciao!